Sto tempietto è una meraviglia, pare un gioiello de' stucco, resta de' stucco e un barbatrucco, verrebbe da di. Stamo nell'arto medioevo, va la di' a quel periodo del medioevo più a ridosso dalla fine di impero romano, quando che i vari popoli, diciamo invasori, si ammischiano coi latini e pure coi rimanenze di chi c'è stava prima di romani a volte, e naschiano e si sviluppano vari regni, ducati e principati, tipo qua il ducato di Longobardi, che danno il Roma a Lombardia. E so popoli duchi che commissionano sto tempietto, che pure Longobardi, da guerrieri rozzi che erano, si erano ripuliti, battezzati e imparati, vedi dunque che pure pelitruzzi c'è speranza. E spesso si è detto che l'arte de' sto periodo è sgraziata, brutta, rozza, barbarica, ma qui in realtà vediamo una grande bravura, eppure una certa sciccheria, che ci sta a semplificazione medievale, ma pure qualche ricordo bizantino e perfino una certa solennità classica, insomma un put purri, ma buono come in insala dinamista. Cominciamo anche col capì che quando diciamo barbaro oggi, vordì incivile, tipo uno che fa delle cose proprio trucide, esagerate, tipo ammazza dei ragazzini, ma anche se comporta male, tipo non sa usare la forchetta, magna che è mano, rutta, mena, non sa leggere, vive come è bestia, insomma diciamo un gradinello sotto artruzzo standard. Ma la parola barbaro l'hanno inventata gli greci, che stanno tutti raffinati e pieni di cultura, che la loro caratteristica puzza sotto al naso schifavano tutti quelli che non erano come loro, ossia greci, che li chiamavano oi barbaroi, dar sono che secondo loro facevano quando parlavano, una roba tipo bar, 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 boh, ma che stai a di, non te capisco, come si stessero a barbettà o a mugugnà o come a radio quando non pia bene che fai ronzii, insomma, se non parli greco vuol dire che sei rozzo. O perlomeno è il senso che la parola ha preso col tempo. E i romani chiamavano barbari certi che erano nomadi, un po' grevi, e non parlavano la dire, non sapevano scrive, e stavano oltre i confini pronti a rompercazza ogni occasione. Che a fine, in effetti, quando l'impero romano si sfrantumò, sti barbari gli chiedero pure loro una botta consistente, diciamo pure, e il corpo di grazia. Però, tornando all'igrecia, amici nostri, non è che siccome non capisci quello che uno dice, allora significa che non sta di un cazzo, è solo che sta a parlare un'altra lingua. Eppure il francese o l'arabo, che sono lingue raffinatissime, che ci stanno cofane dei poemi, romanzi e canzoni, a te te parano bar, 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 ma solo perché il barbaro sei te che non esai. Eppure qua, sto tempietto è bello parecchio, pure che parla un altro linguaggio di quello che parlavano i romani antichi. Che in effetti poi anche l'indo sta sto coso, se te parla uno friulano tu non capisci in cazzo, ma non perché sono stupidi loro o sei stupido te, ma perché al mondo ce sono mille lingue, che per impararle tutte ce vanno cento vite. Te impara dell'italiano, così puoi parlare pure coi friulani, e poi l'inglese, così puoi parlare con tutto il mondo. E infine è romano, così te puoi leggere sto blog.